MXBARS Intervista da Team Geyser Ciao amici di MXBARS Intervista da Team Geyser Ciao Team Prima di tutto, come era la tua qualità oggi? Era abbastanza ok dove guardo? Qui? Qui? Era ok Ho un buon inizio Anche solida La velocità era lì per il prossimo sono davvero scoperto spero che prendi un buon inizio in due motos vedremo alla fine del giorno In riguardo al tuo fisico guarda in forma abbastanza guarda in forma abbastanza ti segui da un allenatore o sempre da tuo padre? Non sempre dal mio padre è il mio allenatore su due strada e anche nel gym quindi mi sento che sono in buona forma mi sento bene mi sento bene mi sento bene mi sento bene come funziona come lavoriamo durante il vento siamo pronti E parlando del nuovo CRF in quali le cose ti aiutano? In realtà è una completamente nuova ogni volta è meglio la moto è più piccola è più facile ed è più facile ed è più potente quindi ogni volta la Honda fa un grande passo quindi mi sono molto felice abbiamo testato la moto durante il vento per farlo come voglio e ora mi sento bene con la moto mi sento davvero mi sento davvero mi sento davvero un buon settore e mi sento davvero molto mi sento davvero Questo anno il tuo stile sembra un po' più calmo hai lavorato per cercare di fare molte errori? che hai avuto che hai avuto un anno l'anno 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 è più facile perché tutti le l'anno 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 non ripetere quindi non mai fai l'anno 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 dove ci sono l'anno aggressivo penso che hanno l'anno l'anno di chi è il il che ti fai la maggior parte? E' sicuramente il migliore del mondo, Tony, è una legenda nella nostra classe e nella motocross world championship quindi è in buona forma questo anno è sicuramente un buon vinter perché è molto preparato e credo che sarà davvero 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 sempre qui è sicuramente un buon vinter perché ha molta esperienza con la raccoglione e sicuramente sapere come vincere e ha molti vincere quindi credo che Tony sarà il più difficile contendere ma sicuramente molti altri ragazzi come Dessal Roman, Bobi e credo che e credo anche a Geoffrey durante la season che è tornato molto veloce e anche a Toulouse molti buoni ragazzi sono ora in classe quindi la competizione è davvero insieme stiamo con la stessa velocità e è molto importante quindi il principio è molto importante e vediamo vediamo abbiamo ancora molti raccoglioni per andare siamo proprio al principio quindi cerco di migliorare raccoglione raccoglione ancora più e cerco di essere consistente e giocare e credo che questo è il punto questo è il punto per questa season credo che era un po' sorpresa del livello del MSGP credo 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 come credo lo credo 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 miles è stato incontrato, quindi non è stato 100% nelle prime due ruote, ma ora, come ho detto prima, ho aspettato di essere in ogni gara migliore, migliore, migliore e combattere con noi, perché è un buon rider e molto veloce. L'ultima domanda, sui tratti, quali sono i tuoi tipi favoriti, soft track, hard pack? Prefiro un tratti medio, il mio preferito è Materle Basin e l'Argentina, questi sono i miei tipi favoriti. due tratti. Grazie molto, ciao MXBars!